Io mi ricordo l'atmosfera che la tribuna era piena, c'era, 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 la gente seguiva la squadra, io mi ricordo che le partite che facevamo qui, questa tribuna era tutta piena sempre, non occorreva, non serviva che fosse una finale, una semifinale o dentro o fuori, era una partita e basta, era piena professione, io devo tirarle fuori ora delle foto proprio di quell'angolo là che non ci si muoveva e non era una squadra di professionisti, insomma professionisti cosa? Le scarpe le comprava mio papà, i cestini da viaggio quando facevamo le trasferte li faceva mio papà e gli dava la squadra, i soldi non abbiamo mai, sì, ci davano la macchia, 500 lire, credo, per non so, 4-5 ore nel mese. Grazie.